Il Master in Aria di Manufatture, in giunto alla seconda edizione, c'è nato sostanzialmente lo scorso anno con una sfida dove c'erano delle idee, c'era qualche azienda, non c'erano strumenti di ricerca a supporto come ci sono stati quest'anno, ma ci ha permesso di attivare una prima edizione in cui il partenariato non era molto lontano da quello di quest'anno, ci sono molti nomi comuni, e ci ha permesso di fare una certa esperienza per riproporre questa seconda edizione quando ci è chiesto, è stato chiesto, indicato dalla regione, la disponibilità di un finanziamento corposo nell'ambito della fabbrica intelligente con un tema specifico del lato di manufatture di cui trarà il genere da fabbrica di me, che si è concretizzato qua sotto nel logo del progetto stampo, che è sicuramente uno dei progetti che ha un ampio respiro, molto ambizioso, diciamo sicuramente che impegna la maggior parte da tutte le aziende che sono interessate anche al master e permetterà sostanzialmente di abbinare la parte di formazione con la parte di ricerca sia del progetto che del master. Confermo che l'unica iniziativa che abbiamo in Italia, nell'ambito dell'alta formazione, è un master di ingegneria, finale di manufatture, in secondo livello, non vi sono altri esempi in Italia, se no, interventi spot di una giornata o due nell'ambito di altre organizzazioni, e confermo che anche in Europa non sono a conoscenza, a meno io non sono a conoscenza, di iniziative di questo tipo, non si può confrontare anche ciò che si fa, quindi di questo credo dovrebbe essere noi da trarre i talenti, non ci conoscono ancora bene, speriamo magari che queste cose vengano diffuse e quindi possiamo avere anche dell'application non solo dai nostri giovani, ma anche dall'esterno. Alcuni dati, ovviamente ricordo che il master è stato presentato e risposto al Banco regionale per l'altro apprendistato, che ormai ha consolidato una regione Piemonte da oltre 15 anni, direi, la regione Piemonte ha trovato il finanziamento utilizzando il Fondo Sociale Europeo, e questo ci fa probabilmente piacere perché sostanzialmente abbiamo un mente pubblico che crede nei nostri progetti, come Schilla, adesso ormai sono più di 10 anni che attiviamo questi percorsi, e sicuramente è un aiuto importante che viene dato a supporto di questa iniziativa. Allora, il fabbisogno occupazionale, cui risponde il master, ovviamente lo conosciamo, l'ho riepilogato sostanzialmente, perché è un bisogno occupazionale delle aziende che operano nel settore dell'attività di manufattori a vari livelli, come vediamo dai loghi del partenariato, evidentemente ci sono grandi imprese, piccole imprese, start-up, tutte imprese che ovviamente messe assieme, uno può dire, ma che cosa hanno in comune? Sostanzialmente hanno, a mio avviso, in comune la necessità di accrescere la cultura dell'ambito dell'attività di manufattori al proprio interno, questo è un aspetto importante, perché a differenza di altre tecnologie come l'automazione industriale e la robotica, dove sono tecnologie consolidate da oltre vent'anni nel nostro paese, quindi si fa sicuramente innovazione, ma la cultura in azienda già esiste, come la stessa cultura della macchina utensil, ovviamente non dobbiamo insegnare a nessuno a scegliere un impianto a controllo numerico. Nell'ambito dell'attività di manufattori, a parte qualche eccezione che abbiamo citato anche nell'intervento di apertura, molte aziende ancora non sanno effettivamente da che parte muoversi per acquisire degli impianti, a volte si rischia di acquisire l'impianto e poi lasciarlo spento perché non siano le persone che riescono a gestirlo, quindi il master sostanzialmente ha anche questo obiettivo per far conoscere ai studenti e anche alle aziende che partecipano al partenariato quali sono le specificità di questa tecnologia che io non chiamo mai stampa 3D, è un nome che non mi piace, la stampa 3D va bene al supermercato comprare la macchinetta per farsi un giocattolino, quella non è di manufattori, è rivolta al settore industriale, la parte domestica, direi che non interessa a questo partenariato. Quello che manca in azienda è sostanzialmente la persona che si è in grado di gestire il progetto di agito di manufatturin dalla progettazione alla realizzazione dei pezzi secondo le proprie specificità, specificità scusate, fino anche a capire come costruire queste macchine, perché nell'ambito del corso vedremo che queste macchine sono tutt'altro che consolidate, sono sistemi combinati per fare prototipi e utilizzare una frezzatrice per fare prototipi, per fare produzione, mi insegnate voi che si fa fatica che una frezzatrice per fare prototipi non ha il cambio utensile, quindi se devo fare produzione ovviamente mi devo formare in cinque minuti per cambiare l'utensile, quindi sono tutta una serie di accorgimenti che bisognerà probabilmente introdurre nelle nuove macchine, nelle nuove tecnologie, questo è l'obiettivo di stampa, però ovviamente il master è anche a supporto di queste attività di ricerca in modo da fornire la corretta formazione. Questi sono i profili sostanzialmente che si possono individuare a seconda dell'impresa che partecipa al partenariato, la tecnica leader, la progettista manager, l'industria operation leader, il progettista meccanico, il design for ability manufacturing, il progettista software, l'aspetto relativo ai ricambi, diciamo che ci sono molte aziende che hanno una serie di problematiche legate al magazzino ai ricambi, a doverli tenere per molti anni, in quanto tenere un file, in quanto tenere un pezzo, in quanto parliamo in termini di costi, di benefici, di spazi. Quindi l'obiettivo formativo, come è stato sottolineato, è stato definito in stretta collaborazione con il partenariato, con l'obiettivo di formare giovani e motivati neurodariati in ingegneria al fine di creare una nuova generazione di specialisti di alto livello nell'ambito dei processi di altri manufattori. Teniamo conto che le application di apply che abbiamo riscontrato sono oltre 120, quindi la selezione è stata sicuramente una selezione stretta che ha portato all'individuazione delle persone che oggi sono più presenti per iniziare il percorso del master, quindi è stata una selezione importante. Questo ci fa particolarmente piacere perché vuol dire che questo tema è sicuramente di interesse anche agli studenti che si laureano, sia a Politecnico di Torino o presso altre università, c'è comunque un interesse importante verso questa iniziativa. Lo scorso anno le application erano molte di meno, mi pare sia una cinquantina, quest'anno sono quasi triplicati. Il master tra l'altro offre, visto il partenariato, che non ha bisogno di presentazioni, l'opportunità unica di essere formati in un ambiente internazionale e di naturale esperienza lavorativa su progetti avanzati, perché molte di queste aziende hanno all'interno già progetti europei che si occupano di queste tecnologie e tutte quante sono coinvolte nel progetto STAMP, che è comunque un progetto di innovazione avanzata, che ci invidiano molte regioni in Italia. Allora, direi che qua non mi chiedo con questi aspetti che sono la domanda, mi concentro un pochettino sul percorso formativo che coinvolgerà ovviamente gli studenti. Noi abbiamo sostanzialmente previsto 400 ore di didattica frontale in aula, che parzialmente verrà sviluppata anche in azienda, come vi farò vedere. Di questo 40% è previsto di attività pratiche guidate, significa esercitazioni in laboratorio, attività pratiche verso le aziende. Poi abbiamo 800 ore da sviluppare presso le aziende, in cui si andrà sostanzialmente a sviluppare il project work, che possiamo chiamarla una tesi, che dura anche la durata di un anno, nell'ambito di un progetto importante per l'azienda che possa portare ovviamente dei risultati e finalizzare l'attività di formazione in questa direzione. Vi è richiesto, guardo ovviamente gli studenti, un impegno non trascurabile, perché qua se facciamo il conto 400 più 800 su 1200 ore, diviso 2 su 600 ore all'anno, le altre ore l'azienda non vi fa, diciamo, non dovete scalare la poltrone in cui siete seduti, vi farà lavorare sui progetti aziendali. Quindi bisogna miscelare correttamente l'aspetto legato al master e il restante attività che verrà sviluppata in impresa. Anche perché io sono, sapete, il Politecnico di Torino non regala niente a nessuno, quindi siamo anche abbastanza vincolanti sulle richieste che chiediamo a chi frequenta questo master, evidentemente il project work, ve lo anticipo, non si può ridurre all'ultimo mese a raccattare qua e là qualche cosa negli uffici dei colleghi. Bisogna ovviamente avere un progetto significativo che viene portato avanti nell'ambito di un anno, per fare questo avrete un tutor aziendale che lo verrà definito e un tutor del Politecnico che vi seguirà e vi darà ovviamente le indicazioni più dettagli di ricerche che possono essere utili, al fine di arrivare a presentare un progetto che sia veramente un progetto importante, che potrebbe anche essere ovviamente oggetto sia di brevetti, come già è successo in altri master, e anche di presentazioni su riviste ai congressi internazionali. Questo è il percorso formativo, andiamo ovviamente dai moduli relativi alla progettazione parlati di manufattori, materiali parlati di manufattori, sistemi di agito di manufattori che sono i moduli ovviamente che hanno il maggior numero di ore, poi abbiamo introdotto tutta un'altra serie di aspetti che possono essere, che portare sostanzialmente la formazione verso alla progettazione delle macchie di nuova generazione, che sono sostanzialmente i sensori di controllo, che è un grosso problema come può confermare il giro talefatti, è il controllo di processo in questi sistemi, che nei sistemi industriali fa fatica ovviamente se addirittura è assente. Poi c'è l'aspetto di validazione dei prodotti, perché l'agito di manufattori, metallo e polimero ovviamente si porta dietro tutto un aspetto legato alla gestione della produzione, al controllo dei manufattori realizzati, sia la programmazione e gestione della produzione, perché quando introduciamo questa tecnologia in un'azienda che tipicamente non la utilizza in modo estensivo ma la sta cominciando a introdurre e la deve affiancare ai suoi sistemi tradizionali, bisogna vedere un attimino quali sono le necessità di integrazione e le modifiche che bisogna fare sia alla programmazione e gestione della produzione e anche alla supply chain, perché evidentemente parlando ad esempio di metalli, è un'azienda che produce, che lavora componenti meccanici per fresatura, ovviamente è abituata a partire dai semi lavorati, di fonderia e di formazione plastica, in questo caso deve partire dalla polpre, quindi anche tutta la supply chain dei materiali grezzi deve essere cambiata e analizzata. Lo stesso discorso è per la piattaforma ICT aziendale che dovrà subire delle modifiche per poter integrare questi aspetti legati all'additi manufatto. Poi della formazione manageriale, non c'è visto come tutta l'estera delle valle, e il prodotto ha il suo peso, 720 ore, che devono essere dimostrate e sviluppate nello sviluppo di un progetto importante. Qui vediamo una bozza di orario, adesso è stato consolidato, quindi questa settimana mi verrà inviata la versione definitiva, che è stata qualche piccola variazione non sulle dati, ma su qualche argomento. Questo è il programma delle lezioni in aula, è stata scelta, concordamente con il partenariato, questa struttura. Per il primo periodo due giorni alla settimana, questo si estende dai due mesi e mezzo, quindi giovedì e venerdì vengono dedicati alle lezioni, è un periodo di due giorni intensivi, perché sono due giorni da otto ore completi. La maggior parte delle ore verrà sviluppata al Politecnico di Torino, o presso la sede del Lingotto, o presso i nostri laboratori, quindi in sede dove vanno a utilizzare determinati applicativi software, però come vedete, nell'ambito di queste lezioni in aula, ho previsto anche una serie, che ho chiamato per il momento visite, ma non è che sono visite per andare a vedere come è fatta l'azienda, ma sostanzialmente una visita dove è richiesta all'azienda di definire una o più persone che illustrino come quell'azienda si sta muovendo nell'ambito di manufattoli se l'ha già fatto, o come intenderà farlo, ovviamente cercando di capire quali sono le specificità di ciascuno, ovviamente senza svelare i segreti industriali. Il partenariato è sicuramente più ricco rispetto allo scorso anno, quindi avremo ovviamente la possibilità, i studenti hanno la possibilità di passare una giornata in tutte queste aziende in modo da poter avere anche un panorama complessivo, diciamo, di qual è la struttura e poter fare una sintesi delle specificità di questo percorso. Questo è sicuramente un arricchimento della formazione, anche sicuramente un po' più impegnativo perché anche le aziende devono mettere a disposizione il loro personale per quell'azienda, per quella giornata, bisogna finire un programma, bisognerà spostarsi nell'ambito della regione Piemonte, mi pare che la più lontana è a Pierro, se ricordo bene, rispetto a Torino, ma logisticamente la possibilità si può gestire senza problema. Questo è un aspetto che è molto importante per la conoscenza e la diffusione. quindi, come abbiamo detto, sono previsto attività di tipo teorico, attraverso le serie frontali, attività di tipo pratiche, finalizzate dall'esperienza diretta, l'utilizzo di applicativi software, ad esempio, nell'ambito del design, tra i manufatturi, diciamo, nonostante i robot antiproclami di grosse case in cui c'è una piattaforma che fa tutto, poi ci si accorge che nelle presentazioni che fanno, c'è la piattaforma che verrà alla successiva della terza release, che va rappresentata e non si sa bene quando. Se qualcuno ha seguito qualche presentazione di grossi nomi, si si accorge che poi in realtà, alla fine, l'integrazione del software ancora non esiste, quindi bisogna insegnare agli studenti che, sostanzialmente, non sapremo il bottoncino che si ottiene l'ottimizzazione topologica, ma bisogna lavorarci in modo pesante, utilizzando strumenti che ci sono, ma che non sono tra di loro integrati. La docenza l'abbiamo già parlato, sia ad agenti interni che ad agenti esterni, non vi vedrete in aula perché la mia opinione personale, che è il coordinatore del master, non deve fare lezione in modo da poter avere una visione globale dell'attività che avendo fatto, non avendo un suo diretto coinvolgimento, non perché non abbiamo la competenza, ma preferisco evidentemente affidare l'attività didattica a docenti che non abbiano il coordinamento del master stesso. Qualcuno, forse, mi ha già avuto in ambito di qualche corso al Politecnico di Torino, ma al Politecnico abbiamo anche un orientamento in ambito di Malufato che partirà quest'anno, quindi sicuramente può essere utile per le prossime edizioni, anche per integrare quello che già si sa. Poi l'attività di formazione manageriale l'ha già presentata la dottoressa De Valle, è sicuramente importante, perché non si parla solitennici, ma evidentemente bisogna avere anche capacità di rapportarsi con le persone. Leonardo ne abbiamo avuto uno, forse è stato sufficiente, adesso si lavora in gruppo, quindi bisogna imparare anche queste tipologie di attività. Allora, il percorso formativo in impresa serve a completare l'apprendimento che viene fatto durante le lezioni e poi ovviamente c'è il coinvolgimento diretto dell'apprendista nelle attività operative dell'impresa per le ore che non sono coperte dal master e voi avete la fortuna sostanzialmente di avere il progetto standard, quindi andrete a lavorare sostanzialmente sull'attività di ricerca prevista nell'ambito di questo progetto e poi ovviamente c'è la preparazione del project work che sarà seguito congiuntamente da un tutor aziendale e da un tutor accademico. Dando però i vincoli che ci sono ovviamente poi sia per l'assemblaggio che per i vincoli meccanici, a parte relativa alla simulazione, questo è un esempio di quei percorsi che vedrete nell'ambito del modulo di progettazione in modo tale da poter capire sostanzialmente quali sono le tematiche necessarie e le integrazioni tra i software che sono attualmente disponibili. Concludo indicando che è stato finanziato dal Politecnico di Torino un progetto importante di un laboratorio di Addity Manufacturing, l'abbiamo chiamato Integrity Addity Manufacturing e Polito Center, una piattaforma di ricerca dove confluiscono sostanzialmente una serie di attività che stiamo portando avanti da molti anni, qui è citata la macchina, il sintetizzatore EOS EOS M270 che è attualmente presente verso l'Istituto di Tecnologia che è diventato un'oggetta partner di questo laboratorio. Acquisiremo una serie di sistemi in un certo livello che vanno da un sistema a letto di polvere però basato sul fascio elettronico. Nel secondo anno verranno acquisiti sia un sistema di IP, di otisostati impressi, sia un CT scan in modo tale da poter beneficiare altre applicazioni e soprattutto controllare i componenti metallici. Nel terzo anno c'è l'obiettivo di portare in questo laboratorio di ricerca un gas atomizzatore in modo tale da avere il controllo sostanzialmente dalla produzione della polvere fino al collabo dei pezzi. Evidentemente questo laboratorio opererà in stretta collaborazione nel progetto STAMP ed è previsto che i prototipi delle macchine che avranno sviluppate in questo progetto potranno essere ospitate in questo centro, quindi sia il prototipo del sistema a letto di polvere sia il prototipo di deposizione laser. Questo direi che sarà attivo nella seconda metà dell'anno quindi potrà ovviamente essere da supporto all'attività del master sia per quanto riguarda la realizzazione dei componenti anche e soprattutto per la realizzazione dei progetti, quindi alcuni project work potranno essere appoggiati anche su questo laboratorio. L'anno scorso non avevamo, è un laboratorio importante, prevede un finanziamento di 3 milioni di euro, ci lamentiamo sempre negli Atenei che non abbiamo fondi, adesso li abbiamo per poter spenderli bene, questa è una cifra sicuramente di un certo rilievo che ci permetterà comunque di mantenere la posizione di leadership di livello di ricerca sia nazionale, con cui c'è il nostro politico di Milano, sicuramente a un livello scientifico più alto, ma soprattutto a livello internazionale. Con questo io chiudo la mia presentazione e vi ringrazio per l'attenzione, rinnovando il benvenuto agli studenti della seconda edizione del Master in Industria Automation, che siete pure ovviamente quelli che fanno vivere questa attività. Grazie. Applausi 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 Applausi